Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento del martedì. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti a PlayerDame in particolare che si è abbonato con Prime per il secondo mese di fila. Un abbraccio grande. Ricordo a tutti che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e non vi costa niente. Come sempre le dirette sono di martedì e di giovedì alle 21 e gli amici di YouTube che ci stanno vedendo in differita e invece ci vedranno il venerdì mattina e la domenica mattina. Questa sera parliamo di un tema, poi vi saluto tutti, intanto introduco il tema. Parliamo di un tema interessante, un tema che se ne è parlato, se ne è discusso ultimamente ma che poi negli ultimi giorni ha avuto abbastanza un boom per via di un'intervista di Red Ronny che ha fatto di una persona che dopo vi mostrerò. Ha fatto tantissime visualizzazioni questo video e in più questo tema mi è stato suggerito di trattarlo durante il tour di Diventare Invisibili da un ragazzo che ho incontrato a Roma e mi ha parlato di questi OPPT che è una sigla di cui dopo parleremo meglio che sembrerebbe un metodo per riuscire attraverso il quale si riesce a rendere illegittimo lo Stato in qualche modo, si identifica più che altro, si attesta che il nostro Stato, il nostro governo è completamente illegittimo e che quindi non possono applicare praticamente nessuna legge e che quindi noi come esseri umani possiamo in qualche modo rifarci ad un diritto più grande, ad un diritto internazionale e quindi molte cose, comprese ad esempio le restrizioni per Covid, non sono assolutamente legittime eccetera. cercheremo di capire un po' di cosa si tratta, cercheremo di capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso ma soprattutto ci tengo a dirlo fin da subito, tutti quelli che mi stanno ascoltando e che mi seguiranno dopo è una cosa estremamente pericolosa, perché se per caso, e qui vi dovete fidare, dovete scegliere di chi fidarvi se fidarvi di quello che vi racconterò io o se fidarvi di altre persone che vi raccontano altre cose, se per caso seguite le cose che vi dicono queste persone convinti che siano cose giuste e poi si scopre che non sono cose giuste, rischiate grosso perché andare contro le leggi, chiaramente disconoscendo lo Stato e quindi facendo un po' come vi pare, costituendo anche poi ad esempio dei trust personali e cose di questo tipo di cui parleremo, se per caso si scopre poi che non è vera questa cosa, ok, correte dei rischi anche penali molto gravi. Quindi è molto meglio, vi consiglio, prima di indirizzarvi su questo cammino, di approfondire molto bene la questione e questa sera sono qui per questo, anche perché nel mio ultimo libro, ora ve lo mostro, Diventare invisibili, io parlo di tecniche per scomparire, tecniche per eludere i controlli, quando questi sono ingiusti, quando ci sono degli abusi, eccetera. Tutto fatto in modo assolutamente illegale, seguendo la legge italiana ovviamente, ma questa cosa dell'OPPT va un po' oltre tutto questo e quindi se per caso poi trovate dei giudici, come penso, tra l'altro, che non convalideranno le vostre teorie, la vostra documentazione che porterete, come già capitato in passato, tra l'altro rischiate dei guai molto grossi, quindi state molto attenti a chi scegliete di credere, ok? Non ve lo dico perché io non ho nessun interesse nel farvi passare un'idea o l'altra, solo che questa cosa sta diventando molto importante in questo momento, ok? Questo video che Red Ronny ha fatto intervistando questa persona che si chiama Barbara Banco, ok? Che mi sembra che sia un po' il personaggio di spicco, di spunta dell'OPPT in Italia, adesso vi racconto subito che cos'è, tutto questo mondo. E intervistando Red Ronny questa Barbara Banco, l'ha intervistata il 25 di novembre, oggi è il 30 di novembre e ha già fatto 140.000 visualizzazioni, quindi in 4 giorni, 5 giorni. Quindi c'è il rischio che delle persone, secondo me, credano queste cose, si lasciano un po' troppo andare, poi come sapete queste teorie che sono un po' particolari, ognuno prende la sua direzione, ognuno prende il suo filone, vanno a finire anche per inventarsi delle cose che magari originariamente non sono state dette e che non esistono, e quindi si rischia molto grosso. Quindi questa sera ve ne parlerò, e spero che sia una serata interessante. Naturalmente, lo dico subito per le amici di YouTube, farò vedere dei spezzoni video, farò vedere delle interviste e delle cose, che credo che i legittimi proprietari di questi video mi manderanno degli strike, mi manderanno delle visualizzazioni per copyright, quando ricaricherò questa cosa su YouTube, e quindi non mi lasceranno incorporare i loro video. E quindi vi lascerò i link qua sotto in descrizione per andare a vederveli, e è chiaro che qua su Twitch invece possiamo guardarli insieme, ed è tutto più semplice. Purtroppo su YouTube è così, purtroppo poi molto spesso i diretti interessati hanno interesse a bloccare poi i contenuti, che come farò questa sera, che in qualche modo sfatano quantomeno alcune delle parti, delle cose che vengono dette, e quindi poi mi bloccano perché non vogliono che appunto quello che io dico si diffonda, e tra virgolette, come dire, confuti poi le loro tesi e le loro teorie, che ritengo molto pericolose, e lo ripeto per la decima volta per mettervi tutti quanti in allerta. Vi saluto tutti quanti, ciao Mirko, ciao Saxonica, ciao Pippino, ciao Jean Pilos TV, se si legge così scusami, Lily Flash, Olli, ciao Olli, ciao spero che il libro ti sia servito Olli, G Fabio, ciao carissimo, ciao a tutti, insomma ci siete un po' tutti vedo, Carlo Vidali, ciao Carlo, Rosspad, Player Dammito già ringraziato prima, Luca, ciao Luca Festa, Antonia, ciao ciao Antonia, ciao Luca Spinelli, ciao tutti quanti. Ok, allora iniziamo, iniziamo questa serata, allora, ciao Wild Spirit, ciao ciao ciao, ciao Fiasco Job anche a te, ciao benvenuto, ciao tutti quanti, Rodi Gian, ciao carissimi, un grandissimo abbraccio a tutti quanti. allora, perché, iniziamo questa chiacchierata, vado via un po' io, come dire, spedito, dopo di che leggo i commenti, a un certo punto mi fermo, leggo i commenti così, mi concentro sulla questione, perché è un po' complicata, e vi consiglio anche di ascoltarmi con attenzione, perché non è una questione semplice, parleremo di diritti, di soggetti giuridici, parleremo di trust, perché è un po' complessa la questione, e io credo proprio che il motivo per cui questa cosa è complessa, e parla di leggi, parla di regolamenti, sia molto facile fraintendere le cose, sia molto facile credere a delle cose, che spesso sono delle supercazzole, diciamocelo molto chiaramente, cose che poi dopo se si va a studiare, e io queste cose le ho studiate per il mio libro, Diventare Invisibili, ho scoperto poi che molte di queste cose sono campate per aria, hanno nessun senso, anzi molto spesso si contraddicono una con l'altra, ecco, e perché ci tengo a fare questa live? Perché mi piace, mi passerebbe, grazie mille PatRidert, PatRidert, sì, sì, per i cheer, non è necessario ragazzi che doniate, lo apprezzo molto però non è necessario, come sapete, se avete Prime, se avete la coroncina blu, abbonatevi gratuitamente, questo sì, lo apprezzo molto, se no non sborsate i vostri soldi, che non sapete che non mi piace questa cosa, ecco, però vi ringrazio comunque. Allora, come vi dicevo, ci tengo molto che la mia community, sia una community molto consapevole, cioè che non senta delle parole, delle frasi, no, di giurisprudenza, delle frasi che riguardano magari la medicina, la tecnica, la fisica, la quantistica, che molto spesso viene scomodata anche per avvolare strane teorie, e ci creda, ecco, mi piace molto che questa community vada a fondo delle cose, in qualche modo, e cerchi di riuscire a andare oltre, andare oltre, purtroppo in questo video che dopo vi mostrerò, ho visto una marea di commenti entusiasti sotto, e mi sono chiesto, io l'ho ascoltato tutto in questi giorni, perché c'è un po' di tempo che mi preparo, e mi sono accorto che, c'è poca mente critica, cioè le cose vengono prese così, come vere, dopo se vai a vedere, questa sera lo andremo a vedere in diretta proprio, scopri che poi vengono dette delle cose che non sono corrette, non sono per precisa perfettamente corrette, e le basi su cui si fonda tutto questo racconto, scliccherono un pochettino, ecco, ok, non preoccupatemi, se non riuscite a fare il Prime gratis, non è importante, ok, ah, vedi, Nike Lemuria, l'intervista che dici l'ho vista, ma è di mesi fa, se guardi i commenti, vedi che ci sono cinque mesi fa, l'hai ricaricata e si è aggiornata la data a novembre, è vero, se la ricarichi, è strana questa cosa, perché se la ricarichi, è un video nuovo, quindi l'hai ricaricata, che strana questa cosa, come ha fatto ad aggiornarsi la data, comunque, c'è centinaia di migliaia di visualizzazioni, insomma, decine di migliaia, quantomeno, quindi sono tante, comunque, ciao Silvia Silvietta, benvenuta, ciao Giante Machi, ciao a tutti, Mauritius, grazie mille per l'abbonamento con Prime Gaming, grazie mille, Mauricio Luss, ok, allora, andiamo nel dunque, che cos'è OPPT, per cosa sta questa cosa, ok, adesso smetto di leggere i commenti, perché naturalmente, per ricordarmi gli acronimi e tutto quanto, devo tirarmi fuori i miei appunti, che ho fatto, allora, la sigla sta per, One People's Public Trust, mi spiegherò dopo meglio, che cos'è un trust, però per adesso, ci basta sapere che il trust, è una sorta di scudo, cioè tu puoi prendere tutti i tuoi averi, affidarli ad un trust, che può essere, che è una società, è un istituto giuridico in questo caso, facciamo finta, e quindi quei beni sono di quella società, non sono più tuoi, quindi se tu hai dei guai, e tu vogliono pignorare le cose, non possono, perché le cose sono del trust, ok, funziona così il trust, dovete sapere che in Italia, il trust, non ha una vera e propria giurisdizione, nel senso che non hanno mai legiferato bene, a riguardo, e bisogna basarsi su delle leggi estere, e questo ci tornerà utile dopo, ma l'importante è sapere questo. Allora, dove nasce questo movimento? Nasce dall'idea, che in qualche modo, noi possiamo recuperare, una sorta di credito, che abbiamo fin dalla nascita, per un motivo che dopo vi racconterò dopo, questa cosa, ok, ha un, si chiama One People Public Trust, ed è in inglese, perché nasce all'estero, ok, per capirci, quindi non è una cosa che nasce in Italia, la stiamo portando in Italia adesso, con una declinazione tutta nostra, ma degli avvocati, se non sbaglio inizialmente, i londinesi, hanno pensato di creare questo trust, nel quale poi confluiranno, secondo le loro teorie, questa cosa non è ancora capitata ovviamente ad oggi, confluiranno questo credito di ogni cittadino, che ha alla nascita, solo per essere nato, perché ogni cittadino possiede un pezzettino di mondo, secondo loro, e quindi ha un valore, questo valore, può essere quantificato in qualche modo, in una certa cifra, pare che sia di 2 milioni e mezzo di euro, pare questa cifra, vogliono fare una grande class action, fare in modo che tutto questo credito, che ognuno di noi ha alla nascita, confluisca in questo trust pubblico, dal quale poi, la ricchezza verrà ridistribuita, ma dove la prendono questa ricchezza, la vogliono prendere dalle banche, perché vogliono considerare illegittimo tutto il sistema, cioè tutti gli stati, tutta la società, vogliono, come dire, renderle illegittime, vogliono dimostrare che è tutto illegittimo, che è tutto un grande complotto, e quindi è tutto illegittimo, e adesso vi spiegherò come cercano di fare questa cosa, appropriarsi quindi di tutti i soldi, che aspettano le persone solo per il fatto di essere nate, perché ognuno di noi ha diritto un pezzettino di terra, perché nasce su questa terra, questa terra ha un valore che è stato quantificato, due milioni e mezzo di euro, far convogliare tutti questi soldi in questo trust, in questa società, chiamatela così, che sta lì in questo momento, e poi a un certo punto ridistribuire la ricchezza, e quindi far tornare il popolo sovrano, naturalmente, e rendere tutti quanti ricchi. Già questa idea, naturalmente, come potete immaginare, dimostra come non si conoscano le leggi basi dell'economia, perché come sapete, se si distribuisse due milioni e mezzo di euro ad ogni persona, ci sarebbe un'iperinflazione gigantesca, e i prezzi delle cose salirebbero alle stelle, e quei soldi diventerebbero presto carta straccia, ma questo bisogna conoscere come funziona la moneta, profondamente per capire queste cose, ma non importa, non voglio già entrare nel merito delle contestazioni, questa è l'idea che è nata all'estero, in Italia è stata declinata in una maniera un po' particolare, nel senso che si vuole, anche da noi, cercare di rendere illegittimo lo Stato italiano, quindi come se non fosse più esistì, come se non esistesse, come se non avesse nessun potere su di noi, e in questo modo noi possiamo fare quello che vogliamo, cioè non siamo costretti a stare alle regole e alle leggi, e non a caso tutto questo, ha ricevuto un po' di notorietà durante il periodo di pandemia, nel quale le persone chiaramente si sentivano vessate dalle leggi, dalle restrizioni, eccetera, e hanno cercato delle scappatoie, per non sottostare a certe regole, a certe leggi, e qualcuno l'ha anche fatto, qualcuno ha anche creduto ciecamente in questa teoria dell'OPPT, e in particolare uno dei personaggi, questo mi fa un po' sorridere, uno dei personaggi che più hanno creduto a questa cosa, è un ciclista di Rovereto, che è una cittadina del Trentino, forse vi è nota perché è considerata una delle cittadine della criptomonete, la città delle criptomonete, perché evidentemente c'è un grande fermento intorno al mondo delle cripto, e questo ciclista per più di una volta è stato fermato, adesso vi mostrerò un video, è stato fermato dalle forze dell'ordine quando non poteva circolare e si è appellato, si è appellato a questa sorta di idea, di questa sorta di idea che lui non riconosce allo Stato italiano, che si considera una sorta di, come potremmo chiamarlo, una sorta di soggetto di diritto internazionale, un soggetto di diritto internazionale, e quindi lui risponde a delle leggi più grandi, che sono le leggi del diritto internazionale, e non quelle italiane, questa è la sua idea. Adesso guardiamo il video di quello che è successo, perché è molto divertente, è molto interessante, proprio a questa persona, una delle volte che è stato fermato, non so, speriamo di non aver chiuso tutto in maniera, eccolo qua, allora, io spero che gli amici della Voce di Bolzano non mi mandino uno strike per questa cosa, ti mostro il loro video. Grazie StayDev78 Non si sente, vero ragazzi? Non si sente là? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, il cellulare lo può anche mettere via, che non serve anche che continui a registrare. Se hai un documento di identità, mi dice per piacere la sua qualifica, si identifica per piacere, poi le dico tutto quello che vuole. Mi dica ai documenti. Non si sente ragazzi? Si sente adesso? Ok, ripartiamo da capo, abbiate pazienza a cose tecniche. Scusate, prima mi muto io perché non voglio che ci sia un rientro audio. Ok, ora si sentiva, perfetto. Allora, lo risentiamo dai, ripartiamo. Quindi quello che non avete sentito che dicevo prima è questo. Questo soggetto viene informato dai carabinieri durante la pandemia, non può circolare, vi faccio un riassunto, non può circolare, consegna ai carabinieri una serie di documenti per attestare che lui è un soggetto di diritto internazionale, non vuole sottostare le leggi italiane e secondo lui questi documenti gli serviranno poi per non essere multato. In realtà verrà multato, poi lui dirà che impugnerà il tutto col tribunale e poi, insomma, sappiamo com'è andata a finire. O se no ve lo dico io com'è andata a finire. Si sente doppio l'audio del video? Dittemi se si sente doppio l'audio del video. Oggi, mentre lavoravo, sono preparatore atletico professionista, mi hanno fermato i carabinieri. Buongiorno, buongiorno. Grazie Carlo. Il cellulare lo può anche mettere via, che non serve anche che continui a registrare. Ma questo è una scelta mia. Se mi ha il documento di identità, per favore. Mi dice per il piacere la sua qualifica, si identifica per il piacere, poi gli dico tutto quello che vuole. Mi dica ai documenti? Sì, è chiaro, ma io devo sapere. Secondo la legge io le chiedo, gentilmente, identificarsi. Non è vero che può chiedere alla polizia o ai carabinieri di identificarsi. Lo può fare soltanto, questo ve lo dico perché lo so, lo può fare soltanto se loro sono in borghese. In questo caso loro sono in divisa e quindi lui non potrebbe nemmeno chiedere che si identifichino. Mi dice la matricola, il nome. Arma dei carabinieri. Sì, ce ne sono centomila di carabinieri, centomila, centomila. Io sono il comandante della stazione carabinieri di A. Grazie, perfetto. Mi dica i documenti, per favore. Ecco. Non ha cos'è la carabinierità, no? Questo è un documento certificato che è protocollato. Se lo rifiuta purtroppo fa una violazione dell'articolo 74 del DPR, c'è la fotografia, c'è tutto. Può fotografarlo e puoi fare tutto quello che vuoi. Non è che deve spiegarne a noi quale sono le leggi. Mi sto identificando, mi sto identificando. Ho capito. Mi sono identificato, quindi non ho questo sistema. Ascolta, non può circolare. Motivi di lavoro. Può fare la fotocopia, mi fa il timbro, la giacere. Sento, noi la avvistiamo, però questo qua non è una motivazione valida per il circolare. Se non mi fa lavorare, poi io... Vabbè, vabbè. Possiamo la violazione in materia di Covid-19 perché... Esigenze lavorative, io sono a distanza di un metro, sono da solo e infatti ho scritto là in fondo, guardi. Se guardi, se hai detto rispetto le istante sicurezza, sto lavorando. Devo programmare su questo allenamento, quindi se mi impedisci di lavorare, mi avrà il senso conseguente. Sì, sì. Ma quello lei faccia pure il suo dolere, perché io sono a sua disposizione. Nonostante io mi sia identificato come... Come persona umana, soggetto di diritto internazionale, i carabinieri hanno proceduto lo stesso al verbale intestandolo alla persona fisica. Infatti io nelle note ho scritto che non sono soggetto alla normativa vigente in quanto diverso da persona fisica e quindi questo verbale è nullo, è incontestabile, è annullabile al 100%. Concludendo, questo verbale lo impugnerò con un ricorso al commissarato di governo, perché è nullo per vizio di forma in quanto è stato intestato alla persona fisica giuridica e non alla persona che si è identificata come soggetto di diritto internazionale personalità giuridica. Secondo, le misure di contenimento vigenti riguardano le limitazioni di spostamento delle persone fisiche e quindi non riguardano il sottoscritto che si è identificato come persona umana, soggetto di diritto internazionale, personalità giuridica, diversamente da persona fisica. Terzo, tale verbale di contestazione è del tutto ingiusto ed illegittimo, nonché lesivo dei miei diritti e quindi nullo, inefficace, invalido, perché i verbalizzanti non hanno riconosciuto la mia qualità di personalità giuridica e appartenenza al diritto internazionale e per questo ne risponderanno in prima persona. Non è vero, naturalmente, che ne risponderanno in prima persona e adesso cerchiamo di capire perché, e quando vi dicevo all'inizio, questa cosa dell'OPPT è pericolosa, è pericolosa perché convince persone come questo, soggetti come questo, che è un bravissimo uomo, chiaramente avete visto, una persona che però si è fatta convincere del fatto che questa cosa sia vera, cioè che possa esistere una distinzione tra persona fisica, che dovrebbe essere lui, nello stato italiano, secondo una questione complessa che dopo cercherò di spiegarvi, ma è veramente complicata, ci provo a spiegarvelo ragazzi, ma non è che è complicata perché è difficile da spiegare, è che proprio non sta né in cielo né in terra, quindi cercare di spiegarvelo con una logica è molto difficile. Lui dice, io per lo stato italiano sono un soggetto fisico, quindi loro mi stanno multando come soggetto fisico eccetera, ma io non mi riconosco come tale perché non riconosco lo stato italiano, per tutte le cose che adesso vi andrò a raccontare dell'OPPT, io in realtà sono un soggetto giuridico internazionale, quindi rispondo solo alla legge internazionale, che è questa cosa un po' della legge internazionale così, e per questo motivo non possono applicarmi le leggi in Italia, quindi se hanno fatto una verbale a una persona fisica, io non rispondo di questo, è tutto illegittimo, lui dice. E ci ha creduto, questa persona ci ha creduto, ci ha creduto a questa teoria dell'OPPT su cui in internet si trovano siti, cose, si trovano documenti di vario tipo, e quindi per tre volte, questo se non sbaglio è la terza volta che lo fermavano questa persona, e quindi ha deciso di appunto contestare tutto quanto. Naturalmente non so nel suo caso specifico se poi ha fatto ancora ricorso, perché non ho trovato poi delle informazioni in rete, magari poi a fine live le cerchiamo, so che però casi simili si sono già verificati in Italia, persone che hanno contestato ad esempio il fatto che i dpcm di Conti non fossero legittimi e tutto quanto, e la Corte di Cassazione in Italia si è già pronunciata, quindi più della Corte di Cassazione in Italia non va, dovreste andare a livello europeo, ma lasciamo perdere, si è già pronunciata, ha detto che sono tutte bagianate, che i dpcm erano assolutamente legittimi, e che quindi tutte queste storie non sono vere e non funzionano. Nel suo caso specifico appunto non so se poi ha fatto ricorso veramente e come sono andate a finire le cose, però magari poi lo cerchiamo. No, Lupin, dopo ti leggo quella cosa lì dell'incostituzionalità, un secondo, dopo ne parliamo. Lui, per quanto riguarda tutti i verbali, tu puoi naturalmente contestarli, però dopo di che si andrà in tribunale e si vedrà se è vero. Io non so nel suo caso come sia andata a finire, però poi come vi dicevo lo cerchiamo. Allora, questa persona si è fatta convincere un po' da questa idea, no? E allora parliamo di questa idea, no? Parliamo perché è nata questa idea, questa, come possiamo chiamarla così, convinzione da parte di alcuni che si possa essere persone, soggetti di diritto internazionale, che lo Stato italiano sia illegittimo e che non sia vero niente, tutto quello che ci raccontano, e che sia tutta una grande truffa, che lo fanno per schiavizzarci, che lo fanno per impossessarci di nostri soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è nata da un concetto, da una teoria. Ad un certo punto qualcuno si è accorto che lo Stato italiano è registrato all'interno della SEC, ok? La SEC è, come dire, l'ente che regola gli interscambi, che regola, sì, gli interscambi, diciamo, che regola i rapporti commerciali, ecco, tra le società, si è accorto che lo Stato italiano è registrato alla SEC, in americana, come Italian Republic of, cioè come Repubblica Italiana. Allora, ci sono domandati, ma com'è possibile che lo Stato italiano sia registrato presso la SEC, cioè presso il governo americano, e in particolare presso un ente che regola le trattative, no, le interscambi tra delle corporation, tra delle società, quando in realtà la Repubblica Italiana non è una corporation, non è una società, ma è una Repubblica, è uno Stato. Cosa ci fa lì, in questo... E quindi hanno cercato di capire cosa ci faceva lì l'Italia, perché c'è, dopo lo vedremo, dopo ci colleghiamo in diretta dopo sul sito della SEC, cerchiamo Italia Republic of, vi faccio vedere che è presente. Sono arrivati, hanno scavato a retroso e hanno creduto di scoprire una cosa, di scoprire che ad un certo punto, subito dopo, pochi anni dopo, la fondazione della Repubblica Italiana, l'Italia è stata iscritta nel registro delle imprese americane, noi non possiamo accedere per vedere questa cosa, perché dicono che in Italia non possiamo fare questa ricerca, nel registro delle imprese, ma nella SEC, che regola appunto i rapporti e le regole, tra le società, siamo presenti, quindi hanno dedotto che l'Italia sia di fatto diventata ad un certo punto una corporation, che non fosse più uno Stato, ma una corporation, una società. E quindi che tutti i rapporti che ha con gli altri Stati, siano rapporti di tipo semplicemente commerciale, non più giuridico, eccetera. come ha una società. Ok? Lo so che magari alcuni di voi, mentre racconto queste cose, si domanderanno, no? O gli salteranno in mente alcuni dettagli, però vi racconto quello che viene raccontato da questo movimento, possiamo chiamarlo così, o Pipitino. Sono tornati indietro e hanno trovato un momento nella storia in cui l'Italia sembra aver spostato una quantità molto grande di oro verso delle società svizzere e hanno pensato che questo grande spostamento di oro sia corrisposto al momento in cui alla moneta, all'euro, alle lire al tempo, non ha più corrisposto, questa cosa è successa veramente ad un certo punto, però non con quello spostamento di oro, non ha più corrisposto ad un sottostante di oro esistente, ok? E quindi hanno detto, ma se hanno spostato questo oro verso queste società svizzere e poi dicono che si è finito poi in un cavo in Indonesia adesso, qualcuno dice anche, cosa è rimasto a dare valore, qual è il sottostante che dà valore, che sostiene la moneta, no? Che dà garanzia alla moneta, perché se prima era l'oro che dava garanzia alla moneta, alle lire al tempo, se l'oro l'hanno tutto dato agli svizzeri, e c'è questa cosa, se volete lo guardiamo, c'è proprio scritto sul sito della Banca d'Italia, nello storico delle cose che sono state fatte, che a un certo punto numerose tonnellate di oro sono finite in Svizzera. Scusate un secondo, guardo che si senta tutto, perché poi non vuole scoprire che sto parlando a vuoto anche adesso. Cosa hanno pensato? Hanno pensato che se l'oro è sparito, il sottostante, quello che dava garanzia alla moneta, doveva essere qualcos'altro. E siccome, hanno fatto questa congiuntura, concessione, siccome contestualmente l'Italia era diventata una corporation, secondo questa iscrizione alla SEC, hanno utilizzato l'essere umano, l'essere umano come garanzia della moneta. Questo è quello che raccontano. So che alcuni di voi si stanno chiedendo, ma che diavolo vuol dire sta roba? Però hanno detto, ok, quindi vuol dire che noi siamo forza lavoro, che noi siamo esseri umani, e che siamo noi a garantire per tutte queste lire, che prima invece erano garantite, per l'esistenza dell'oro, che abbia stato dato via. come stato dato via, come dire, non dico pegno, ma come, potremmo dire come, motivo per il quale siamo entrati appunto nella SEC, e quindi siamo diventati una corporation a livello mondiale. Quindi da questo ne hanno dedotto, che tutti quanti noi abbiamo un valore, cioè il sottostante di moneta che garantiamo, che lo abbiamo fin dalla nascita, perché nascendo su questa terra, questo valore è legato al fatto che ognuno di noi, ha diritto a possedere un pezzettino di terra, perché siamo nati su questa terra, e hanno stabilito che questo valore è di circa due milioni e mezzo di euro o di dollari, adesso non lo so bene. E quindi da qua, quello che vi dicevo inizialmente, c'è una resistenza di un trust all'estero, dove qualcuno sta cercando di riprendersi tutti i soldi, che sono della gente, secondo loro, e quindi poi dopo ridistribuire la ricchezza. Contestualmente a tutto questo, chiaramente siccome lo Stato non è più uno Stato, ma è una corporation, chiaramente non è più legittimo niente, quindi i tribunali non valgono più niente, la legge non vale più niente, le forze dell'ordine non possono più fare quello che possono fare, le regole non possono più in nessun modo essere applicate, le persone non sono più legittimate, non sono più, come dire, costrette soprattutto a seguirle, e da qui ancora persone come questa, che abbiamo appena visto, che ci credono a tutta questa cosa, e dicono, ok, io posso circolare liberamente durante il Covid, perché queste regole sono tutte illegittime, quindi farò ricorso, quindi dimostrerò ad un giudice questa teoria che vi ho appena, la mostrerò, questa teoria che vi ho appena enunciato, il giudice ammetterà, secondo la sua fantasia, che lo Stato è totalmente illegittimo, e quindi mi darà ragione, e quindi mi annullerà tutte le multe. questo è quello che è diciamo l'OPPT. In più ci sono una serie di prove che vengono portate a favore di tutto questo, ad esempio una prova, una prova che sembra essere schiacciante, oltre al fatto appunto che l'Italia è registrata nella SEC americana come società, quindi è diventata una corporation a questo punto, aggiungono anche la prova del fatto che quando nasciamo, e ci viene dato il certificato di nascita, quando facciamo finta che io abbia un figlio, e mi viene dato il certificato di nascita di questo figlio, sul certificato di nascita io non trovo scritto che sono il proprietario di questo figlio, ma sono semplicemente il tutore legale, e quindi loro dicono, vedete la proprietà del figlio, ogni uomo che nasce, per il fatto che nasce all'interno di una corporation e non di uno Stato, è di proprietà della corporation, e tu come persona, come genitore, sei solo il tutore legale, esattamente come può capitare in un trust, dove le due cose si scindono, e quindi dicono, vedete, è per questo che sul certificato di nascita c'è scritto questa cosa, e allora cosa succede? Dopo queste cose cercherò di smentirvele chiaramente a un certo punto, cosa succede? Succede che alcune persone decidono che loro possono fare come ha fatto questo signore, e ci sono casi, ci sono state inoltrate presso i comuni delle carte, di recente anche, da parte di persone, che dicono questo, cosa faccio io? Io, Francesco, costituisco un trust, a nome mio, ma del soggetto giuridico, invece che del soggetto fisico, Francesco, quindi mi sdoppio, come dire, legamente parlando, con delle carte che trovo anche online, che posso scaricare, sposto tutti i miei beni, tutto quello che possiedo, a nome di questo soggetto giuridico, che fa capo al trust, e io rimango solo persona fisica, e quindi se tu, Stato, poi mi vieni a chiedere, ad esempio, le tasse, mi vieni a chiedere di pagare l'Imu, mi vieni a chiedere di pagare il bollo auto, non puoi vendire a chiedermelo, perché io ho spostato tutti i miei beni, con delle carte che queste persone deludora consegnano ai comuni italiani, con delle carte ho spostato tutti questi beni a questo soggetto giuridico del trust, che mi fa da scudo, e quindi se tu, Stato, agenzia delle entrate, mi vieni a chiedere a me le tasse, mi vieni a chiedere cose, non puoi, perché io non rispondo più di queste cose, perché sono tutte state affidate ad un trust. Questa cosa del trust esiste, funziona in qualche modo, esiste in Italia come esiste all'estero, però non è esattamente così, cioè una persona non può decidere di autodefinirsi un trust, che dopo lo vedremo perché. Però loro dicono, io inoltre queste carte al comune, secondo la legge, se il comune non mi contesta l'esistenza del trust entro un certo numero di giorni, questo è di base costituito, quindi io l'ho fatta questa cosa, e quindi poi domani, quando mi arrivano le multe, mi arrivano la riscossione delle imposte, mi arriva il da pagare l'Imu, mi fanno anche causa direttamente a me, non possono farmelo perché tutti i beni che ho io e non mi li possono toccare, non mi possono chiedere le tasse, non devono venire a me a rompermi le scatole, perché devono andare dal soggetto giuridico, che è un altro soggetto, un'altra cosa, e devono fare le richieste a loro. Quindi quando mi arriveranno queste contestazioni, ecco, sono nulle di fatto, secondo loro sono nulle di fatto, perché sono state indirizzate alla persona sbagliata, un po' come quando, non so, arriva un atto all'indirizzo di residenza sbagliato, e l'atto è nullo, o inesistente è ancora peggio. Quindi dicono, siccome è arrivato a me, e non doveva arrivare a me, doveva arrivare a lui, che è il trust, che è un soggetto giuridico, dovete immaginarlo come una cosa, che esiste solo nelle carte, ecco, non c'è una fisicità reale, noi sono un po' fare niente. E ci sono persone, ci sono casi, ci sono persone che hanno fatto questi documenti, li hanno notati al comune, e credono che il comune andrà a leggersi le normative, perché dovete sapere che in Italia il trust esiste dal 92, come questione, come entità, ma non c'è una vera e propria normativa in Italia, ma si fa capo a normative estere, e quindi credono che il comune andrà a leggersi tutte queste normative, per cercare di capire, e quindi ci saranno lunghissime questioni legali, magari alcuni reati andranno in prescrizione, non reati, alcuni, non parliamo di reati penali, perché reati è penale di default, alcune, alcune appunto cose che ci contestano, multe, riscossioni, cartelle esattoriali, andranno in prescrizione, oppure cadranno perché sono nulle, quindi io mi salverò da questa cosa. Come vi dicevo, è molto pericoloso questa questione, perché se tu, se per caso tutto questo non è vero, tu puoi finire nei guardi, ok? Poi c'è un altro piccolo particolare, perché poi, soprattutto sul trust, ma ne parliamo alla fine. Allora, proviamo a guardare un altro pezzettino di video, di una persona, di cui vi dicevo prima, che è questa tal Barbara Banco, che in particolare, ha parlato ai microfoni di Red Ronny, io qui ho visto 25 di novembre, adesso guardiamo questa cosa che dicevate dei commenti, ah, tre mesi fa, modificato, cinque mesi fa, sei mesi fa, ma com'è possibile caricare un, com'è possibile questa cosa, caricare un video che risulta del 5 di novembre 2021, con commenti di mesi e mesi fa, dal più recente, sette minuti fa, commenti più popolari, tre mesi fa, sei mesi fa, ma com'è questa cosa è da pazzi, comunque sì, su questa cosa qua ho preso un abbaglio io, credo fosse un video nuovo, comunque, questa persona è stata intervistata da Red Ronny, e racconta un po' queste cose che vi ho appena detto, parte da una questione ancora prima, che è il diritto marittimo, una cosa di questo tipo, che però, però, sentiamo un pezzettino, sentirete che parla esattamente di quello che vi ho appena detto, più o meno, più o meno, più o meno perché poi ognuno ha le sue interpretazioni, le sue cose, sentite un attimo, sentiamo solo un piccolo pezzettino, per dichiarare la morte, manca il corpo, no, questo della morte lasciamo perdere, debito, quei 2 milioni e mezzo di euro diventano un debito tuo, e ecco perché siamo, noi ci dicono che noi quando nasciamo abbiamo un debito, col cavolo, noi quando nasciamo abbiamo un credito, è un credito molto grande, ti faccio rifare una riflessione anche, e la faccio anche io insieme a te, ma chi l'ha detto che 2 milioni e mezzo di euro va bene per la mia quota parte sul pianeta, chi l'ha detto che 2 milioni e mezzo di euro è una quota parte giusta e equa per la vita, ti sembra possibile dare un valore alla vita, lo sai perché non gli si può dare un valore alla vita, perché la vita è il valore, qui fino ad oggi, tutto quello che ha girato nel commercio, nei soldi, ha girato tutto sopra il valore dell'uomo, sentite non è quello che vi raccontavo no? no sull'argento, sul valore dell'uomo, ok ci diamo un altro passettino, è chiuso, perché loro che cosa hanno fatto? hanno fatto la procedura, e guarda caso qualcuno ci avesse metto le mani, l'hanno chiuso, l'hanno sigillato, se è successo di là, al bis, ok, per non perdere il discorso, vediamo un'altra parte, veniva ufficialmente occultato, e da lì, hanno ridepositato, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, chiamandola The One People's Public Trust, 1776, ok va bene, non voglio entrare poi nel merito, perché è un video lunghissimo di un'ora, volevo solo farvi sentire appunto così, che parla esattamente di queste questioni, prendo un altro pezzettino, a caso, vediamo se lo, ne azzecco uno più preciso, aspetta, te lo spiego, 0+, significa che io, domani mattina, ho accesso, per quanto mi serve, dove mi serve, con qualsiasi moneta mi serve, ecco questo è il ritorno dei soldi che dicevano, significa che io non potrò mai più fare accumulo, perché, perché se io in un conto 0+, quindi infinito, non manco infinito, perpetuo, e illimitato, ci metto un euro, in quel momento io l'ho bloccato, quel conto, si, non è facilmente comprensibile, lo so, però per quanto tu mi parli, parli di accumulo, c'è chi oggi ha accumulato tanto, diciamo che le ricchezze del mondo, sono in età, va bene, va bene, non volevo entrare nel merito, volevo solo farvi vedere, che appunto questa persona, sembra un po' essere un punto di riferimento, per quanto riguarda tutto questo, no, Barbara, Barbara Banco, allora, cerchiamo di capire, cerchiamo di capire insieme, se queste cose sono, hanno una base, no, allora io vi dicevo, il punto di partenza, su cui tutto quanto si basa, e queste sono le ricerche che ho fatto io questa settimana, per cercare di comprendere questa questione, il punto di partenza è che, sul sito della SEC, ok, eccolo qua, Securities and Exchange Commission, cioè un lente che regolamenta, no, in qualche modo i rapporti commerciali, tra le corporation, cerchiamo di capire, se esiste veramente, una società, che grazie mille, tutti quanti per gli abbonamenti, un abbraccio grandissimo ragazzi, cerchiamo di capire, se esiste veramente qui dentro, lo stato italiano, no, e se è vero, come ad un certo punto afferma questa signora, ma tanti altri affermano, se è vero che è stato registrato, nel 1934, mi sembra che sia la data precisa, 1934, sì, adesso lo stavo verificando, che fosse quella la data, sì, andiamo a vedere, no, perché, quello che dicono è, è stata costituita la Repubblica, e poi, poco dopo, siamo entrati, siamo diventati una corporation, e quindi tutto quello che vi ho raccontato, ne deriva, allora, andiamo, cerchiamolo, no, cerchiamolo in questo sito, cerchiamo Italy, Italy, e se cercate Italy, ok, in effetti viene fuori, una voce che è, dove diavolo è, che l'avevo cercata prima, boh, ma come è possibile che adesso non ci sia, Italy, ah, eccolo qua, eccolo qua, scusate, scusate, ho scritto sbagliato Italy, Italy Republic of, eccolo qui, c'è, no, vedete qua, Italy Republic of, Repubblica Italiana, Repubblica d'Italia, allora uno dice, ah, allora c'avete ragione, allora, se in una società che regolamenta i rapporti commerciali tra corporation, c'è l'Italia, c'è il governo italiano, c'è la Repubblica Italiana, eh cavolo, allora sì, la Repubblica Italiana è correttamente un, è tutto vero, è una corporation tutto vero. Peccato che basta però aprire un attimo questa voce, Company Information, e andare a vedere alcune informazioni. Una di queste informazioni è importante, è questa, in realtà la società è stata fondata il 24 gennaio 2002, quindi non nel 1934, come dicono, e loro dicono, ah, ma nel registro delle imprese americane, ma noi non possiamo accedere per andare a verificare, questo dato, c'è scritto 1934, ok, però se non si può andare a verificarlo, questo dato a me mi puzza un pochettino, perché dove l'abbiamo tirato fuori questo dato? Io vedo che l'iscrizione alla SEC è del 24 gennaio 2002, quindi relativamente recente, quindi non tornano più le date, no? Ma soprattutto vedo un'altra cosa, vedo che l'indirizzo, il proprietario è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ok? Questa cosa è molto diversa dallo Stato italiano, perché tutto questo ragionamento, il fatto che lo Stato è una corporation, potrebbe funzionare se noi consideriamo lo Stato come un monolite, come una cosa unica, ma non è così. Lo Stato italiano è fatto da diversi enti, tra cui anche il Ministero dell'Economia, che ovviamente cosa fa? Compra fondi, vende anche con l'estero, compra titoli, vende, arriva servizi, eccetera, e questi servizi devono essere regolamentati, ed è per quello che, per poter fare tutta questa cosa, il Ministero dell'Economia ha registrato una società, che non è lo Stato, ma che hanno chiamato Italy Republic of, che opera, diciamo, per conto, ecco, potremmo dire così, perché come tutti i soggetti, che sono legati economicamente ad altri soggetti, devono essere regolamentati, perché altrimenti ognuno fa quello che vuole, quindi se tu vuoi lavorare, operare sul mercato americano, fare interscambi, eccetera, e quindi essere quotato, eccetera, e poter emettere titoli di Stato, eccetera, deve essere regolamentato, no? Se no te lo fai soltanto in Italia, questa cosa qua, e non ti regolamenti all'estero, se invece vuoi anche comprare titoli di Stato esteri, comprare dollaro, vendere, avere interscambi con l'estero, ti registrerai, il ministero dell'economia farà una società, che guarda caso si continua a chiamare Italy Republic of, non si chiama più, società SNC, eccetera, no? Quindi è ancora una repubblica, anche se dica, e gli interscambi vengono regolamentati, come giusto che sia, altrimenti sarebbe il caos, no? Ognuno potrebbe fare quello che vuole, eccetera, e quindi non è vero che siamo, che lo Stato è un, è una, in qualche modo una corporation, e invece è vero che il ministero dell'economia e delle finanze, sia per poter fare degli interscambi, per poter vendere prodotti, comprare dollari, mettere titoli di Stato, fare quello che si fa, cioè operare nella finanza internazionale, deve essere regolamentato, deve essere sorvegliato, giustamente. E qui cade un po' tutto il palco, no? Perché se non è più vera questa cosa, che lo Stato italiano è una corporation, non è più vero neanche tutto il resto, cioè allora le regi sono ancora valide, allora la giudicprudenza è ancora valida, eccetera, eccetera, eccetera. Ma possiamo andare oltre questo, no? Possiamo andare a confutare anche altre cose che vengono dette. Allora, proviamo ad andare a capire questa idea che lo Stato italiano ad un certo punto ha ceduto il suo oro in Svizzera per cercare di entrare a far parte della SEC, no? In questa operazione in cui hanno ceduto l'oro e hanno sostituito l'oro con gli esseri umani, gli esseri umani ci hanno individuati merce, no? Questa è l'idea un po' base, che serve per schiavizzare un po' tutti. Allora, se noi andiamo a vedere sul sito della Banca d'Italia e cerchiamo, chiudi banner, e cerchiamo Svizzera, eccolo qua, vedete? Questa cosa la troviamo scritta. In effetti c'è, c'è scritto. C'è scritto che nello stesso mese si verificò una riduzione della riserva, qua si parla di oro, per 1,8 tonnellate che vincolate a garanzia di un'anticipazione, vincolate a garanzia di un'anticipazione concessa all'Istituto Nazionale del Commercio con l'estero da un gruppo di banche svizzere, furono inviate alla Banca Nazionale Svizzera a causa della non restituzione del prestito. Cioè, alcune banche svizzere ci avevano prestato dei soldi, soprattutto dopo la guerra, per, come dire, cercare di risollevarci dai problemi che avevamo. Non siamo stati in grado, come Repubblica, di restituire questo prestito e quindi, a fronte di questo prestito che noi siamo stati in grado di restituire, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato un po' del nostro oro, un po' di tonnellate, ma non tutte. Chiaramente sono state date 10,8 tonnellate di oro e poi 21,7 tonnellate da parte dei tedeschi che portarono la riserva aurea ad un minimo di circa 22 tonnellate, quindi ne rimase comunque oro. Cioè, non è vero che tutto l'oro poi fu inviato in Svizzera. E comunque, ripeto, c'è chiaramente scritto sul sito della Banca d'Italia, quindi basta andare a cercare, che si tratta di restituzione di un prestito che era stato fatto per questioni di guerra, perché avevamo chiesto dei soldi, perché non riuscivamo ad uscire dalla guerra bene. Ok? E quindi, anche questa cosa qua, come dire, non è molto vera, ecco. Ma proviamo ad andare oltre, no? C'è questa questione del fatto che sembra che una prova inconfutabile sia il fatto che quando nasciamo, quando i nostri figli nascono, in qualche modo sono di proprietà dello Stato e noi diventiamo semplicemente dei tutori. Ok? E perché siamo solo dei tutori? I figli non sono nostri? Perché possiamo solo essere tutori? Non sono nostra proprietà? Sono proprietà dello Stato? Ecco, la verità è che non sono proprietà di nessuno, perché in Italia la proprietà di una persona si chiama schiavitù. E la schiavitù è stata burita da tempo dalla legge 228-03 ed è, non è nemmeno concessa dalla Costituzione, articolo 3 e articolo 4. E quindi, è una fantasia, no? Le persone soggetti, gli esseri umani non sono di nessuno, non sono né dello Stato né dei loro genitori. Sono liberi. Ed è giusto che sia così se ci pensate. Cioè, i figli non possono essere legalmente nostri. Noi siamo i loro tutori. E infatti lo siamo fino a quando non combiano 18 anni. Dopodiché loro diventano oppure escono dal nucleo familiare e diventano indipendenti, ok? E quindi costituiscono un nucleo loro. Ma da quel momento in poi non siamo più loro tutori e quindi loro rispondono per le loro azioni in maniera automatica in maniera non automatica ma individuale. Quindi capite che questa cosa è costruita su delle parole addirittura il fatto che la proprietà dei figli che proprio sono sbagliate perché la proprietà non esiste in Italia delle persone perché si chiamerebbe schiavi tu ed è illegale. Ma poi andiamo alla fine. Alla fine sulla parte dopodiché ho concluso leggo un po' di commenti. Andiamo alla fine. Andiamo a vedere un secondo la questione. Guardo soltanto che ore sono ragazzi perché si parla da 54 minuti. Andiamo a vedere la questione del trust. Perché una persona dice beh ma allora io comunque potrei comunque costituirmi il mio trust. Ok? Il trust vi leggo un esempio che ho trovato in rete è molto carino su come si può su come si configura questo trust. Ecco. Mario Rossi si dichiara Mario Rossi trustee che è quello che concede il trust che crea il trust si dichiara legale rappresentante del trust Mario Rossi. Ok? Sono due Mario Rossi. Uno è soggetto fisico l'altro soggetto giuridico che include le posizioni giuridiche di Mario Rossi questo trust qui compreso il suo nome cognome codice fiscale e tutto il patrimonio immobiliare e immobiliare. quindi ha spostato tutte queste cose su questo praticamente trust ecco diciamo. Il cui alto scopo umanitario ok? È quello di tutelare salvaguardare gli interessi di Mario Rossi questa persona che non vuole pagare le tasse ecco diciamocene molto chiaramente in questi documenti che Mario Rossi fa per creare questo trust notifica al comune e alle autorità italiane la sopravvenuta mancanza di soggettività giuridica in Italia cioè questo trust non ha più una soggettività giuridica in Italia perché corrisponde alle leggi del trusting che sono leggi che in Italia non ci sono ma sono internazionali e quindi può avvalersi della totale esenzione fiscale e contributiva e poi cosa fa? Facendo questo passaggio e mandando dei documenti al comune ad esempio dice che assegna un breve termine per far prevenire osservazioni o motivazioni di dinego però dice al comune dovete brevemente in 28 giorni pronunciarvi voi per dirmi che il mio trust non è valido altrimenti io ritengo il trust svincolato cioè assolutamente valido e quindi voi non potete più dirmi niente e io non ho più nessun obbligo giuridico nei confronti dello Stato italiano questa è un po' l'idea ok perché questa cosa non può funzionare in Italia? Beh non può funzionare per un motivo estremamente semplice e cioè che ci sono già delle leggi in Italia adesso vi leggo anche quelle che sono ok e la legge numero 88 del 26 5 2017 che dice scusate non è una legge è addirittura una sentenza della Cassazione la sentenza numero 88 del 26 del 5 2017 quindi non proprio recentissima ma è una sentenza definitiva della Cassazione quindi a ultimo appello possibile che possiamo avere in Italia dove dice che se un trust viene realizzato per scopi effimeri cioè per scopi banalmente per occultare i redditi ve la leggo proprio quello che dice non è un trust valido ecco non serve che nessuno lo contesti entro un certo tempo non è valido di suo perché è evidente che è creato per fare i furbi ecco no capito la sentenza dice così i trust istituiti e gestiti a fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi mera interposizione mettere uno scudo in merito a beni e redditi esattamente questo che cercano di fare per non pagare le conseguenze delle azioni e non pagare le tasse eccetera non sono considerati validamente operanti è il caso ad esempio quindi la sentenza della Cassazione scusate fa proprio un caso che è perfetto che è proprio collite perfettamente con questa realtà è il caso ad esempio dei trust nei quali l'attività del trustee cioè quello che l'ha creato il Mario Rossi fisico originale sotto il profilo sostanziale risulti soggetta alle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari che di fatto si mantengono l'effettiva disponibilità del patrimonio conferito nel trust cosa vuol dire questa cosa vuol dire che tu se questo trust è fittizio tu dici io sposto tutti i miei beni tutti la mia responsabilità giuridica su questo altro soggetto qua che voglio giuridico al cui voglio dare tutta la responsabilità e io mi salvo da tutti i problemi se questa cosa è evidente che è fatta furbescamente e in più tu nonostante abbia dato tutto a questo trust comunque continua a beneficiare delle cose quindi continui a usare l'auto continui a vivere in quella casa continui a usare la sanità continui ad avvalerti delle leggi quando ti fa comodo eccetera tutto questo palco non è valido dice la sentenza della Cassazione è tutta una grande pagliacciata ovviamente dice molto banalmente questa è la sentenza la potete andare a verificare numero 88 del 26 5 2017 quindi anche quella persona che abbiamo visto in bicicletta che cercava di avvalersi di questa cosa e qualcun altro che gli venisse in mente di fare questo per salvarsi per non pagare le tasse per non avere problemi legali per non riconoscere lo Stato per poter circolare liberamente in pandemia per non poter voler usare il Green Pass per non vaccinarsi eccetera queste cose che circolano intorno a questo mondo ok c'è chi le decina più in un modo e chi le decina più nell'altro sappia che la Cassazione si è già pronunciata in merito e noi possiamo dire quanto vogliamo che noi non riconosciamo lo Stato ma se poi lo Stato ti dice che tu non hai ragione devi sottostare a queste leggi anche perché dal punto di vista pratico poi lo Stato ha un braccio armato ok ha un braccio esecutivo che le cose te le fa te le impone di forza te le impone di forza se tu non non sei d'accordo ok e queste cose ovviamente funzionano in questo modo per il quieto vivere civile perché non è che una persona può decidere che a un certo punto fa quello che gli pare però continua a vivere in Italia continua a godere delle cose italiane però allo stesso tempo si chiama fuori dai doveri dalle responsabilità ecco questo è quello che volevo raccontarvi per quanto riguarda il mondo dell'OPPT è molto fumoso chiaramente è molto complicato però appunto le basi su cui si regge sono basi assolutamente deboli e ci sono stati dei soggetti c'è un caso del tribunale di Milano anche in cui una persona si è identificata come soggetto di diritto internazionale quindi non riconosce le sentenze del giudice eccetera e quello che è successo una sentenza del 2015 quindi è abbastanza datata e quello che è successo è che poi alla fine la legge ha fatto su due corse e questa persona ha pagato quindi non ha funzionato quindi vorrei dirvi di stare molto attenti ecco questo è il sunto della questione adesso leggo un po' di commenti e discutiamo su tutto quanto ok